La manifestazione annuale promossa e organizzata dall'associazione 50 e più e da Confcommercio sbarca a Rossano. Dal 15 settembre nella città Sibarita arrivano più di mille atleti da ogni parte d'Italia, uomini e donne over 50, alle prese con le più diverse e disparate discipline sportive grazie alle Olimpiadi della terza età. È l'evento anche più simpatico, noi abbiamo atleti da 50 anni suddivisi per categoria e durante la settimana si svolgono le gare principali che sono marcia, maratona, bicicletta, nuoto, tiro con l'arco, calcio, basket e tennis. Un evento a carattere nazionale che porterà vitalità e un indotto interessante per il territorio grazie alle numerose presenze che si attendono. Settembre è generalmente un periodo di crisi per il turismo ma non è la prima iniziativa che Confcommercio e 50 più, che conta più di 300.000 associati fanno in Calabria. Già la prima esperienza a Praia Mare con 3.000 anziani che sono arrivati per le settimane di primavera. Quindi sono iniziative che meritano il sostegno dell'amministrazione regionale. Il Presidente Scopelliti appena l'ho informato di questa iniziativa, ho voluto subito partecipare e ringraziare il Presidente della Confcommercio di Cosenza e l'amministratore dell'Elegato di 50 e più che è qui per presentare questo progetto importante non solo per la provincia di Cosenza ma secondo me nei prossimi mesi vogliamo aprire un discorso che investa tutta la regione Calabria potenziando la provincia di Cosenza ma anche oltrepassando i confini della provincia per fare un discorso, visto l'entità di 50 e più di 300.000 associati, più regionale ma sempre come Confofila la Confcommercio di Cosenza. Questa va a completare quello che abbiamo fatto ad aprile, quelle 3.000 persone che sono stati qua per un mese e quindi significa 21.000 notte, a completare da lì abbiamo fatto con la fascia terreno e questa è la fascia ionica. Noi quello che sono 1.500 persone rimangono 10 giorni e fanno gli inviedi della terza età. Faremo lo stesso discorso che abbiamo fatto con i comuni di Cosenza e con l'amministrazione comunale di Rossano, li faremo andare in giro, tutto ciò è quello che nella nostra DNA di Confcommercio è a costo zero, quindi significa fare rete, ecco questo è quello che io tengo sempre a precisare. E come il Presidente Scopalita ha detto più che è un inizio di un rinnovamento, beh io li invito a un inizio di un rinnovamento volendieri che accogliamo con trasparenza e con la legalità perché questo territorio, questa provincia ne ha proprio tanto tanto bisogno.